C'è la voglia di giocare, c'è la voglia di fare un'altra buona prestazione come quelle recenti, anche se non abbiamo vinto da ormai 3-4 partite, ma al di là della vittoria dobbiamo pensare a come arrivarci alla vittoria, se noi pensiamo di entrare solo per vincere domani facciamo una brutta figura perché non siamo una squadra che può arrivare alla vittoria, può arrivare una volta alla vittoria non cercando di giocare ma sarebbe una scorciatoia, la lunga le pagheremo, le pagheremo anche in maniera pesante, quindi dobbiamo pensare a giocare, a fare quello che sanno fare i calciatori, a divertirsi, a fare il tipo di partita che abbiamo provato, che pensiamo possa venire fuori con tranquillità perché se ci facciamo prendere l'ansia di attaccare in massa o di creare buchi la partita domani poi riserva dei problemi per noi. È una squadra molto esperta perché ha giocatori esperti, grandi di età, giocatori forti anche perché Zemaili, De Maio, Pulgar, Destro, Palacio, sono tutti giocatori di Gonzales, di alta qualità e io li ho visti contro il Torino sul video e hanno meritato di pareggiare, hanno vinto con la Roma, hanno vinto con l'Udinese e quindi questo dimostra che la partita domani è molto molto difficile, è un altro test per noi importante, è un crocevia molto importante da giocare con la testa, col cervello, più che con le gambe, è una partita da giocare col cervello perché le squadre che si chiudono e poi ripartono mettono in difficoltà spesso chi vuole fare la partita e noi ci aspettiamo questo tipo di partita e vediamo se siamo diventati un po' più maturi rispetto magari a un mese fa. Siamo pronti a giocare contro avversari che cambiano anche il sistema di gioco, abbiamo giocato tante volte contro una squadra che si è presentata a 4-3 o anche contro una squadra che ha giocato con due punte, sappiamo quello che dobbiamo fare, non so se loro cambieranno il sistema di gioco, so che hanno degli infortunati per fare il quinto, per fare tutta la fascia, non so se li hanno recuperati, se qualcuno si è riaggregato all'ultimo ma non può giocare, questo noi non possiamo sapere, so che non sono queste le priorità per vincere o perdere una partita, quindi non muoio per dare queste informazioni, muoio per cercare di arrivare con una mentalità giusta, con l'attenzione giusta e con il gusto di giocare idoneo per affrontare una partita così pericolosa. Bo Teng viene in panchina, non è pronto per giocare, però già averlo con noi, averlo a disposizione per un spezzone di gara è importante, così come la settimana scorsa avevamo recuperato per l'uso, sono giocatori che a noi ci spostano all'interno dello spogliatoio, oltre che in campo, perché essendo molto giovani poi dopo capire anche il peso della partita, la difficoltà della partita lo può fare l'allenatore, sì, però lo fanno anche quelli un pochino più esperti. Una squadra che veniva da due sconfitte, anche se queste due sconfitte le abbiamo trovate contro Milan e Napoli e si presenta con la Sampdoria con quel coraggio, quella voglia di giocare da dietro, secondo un fine, non giocare da dietro così tanto per metterci l'etichetta di belli che non interessa a nessuno, non è facile, di più in quel momento penso che non avremmo potuto fare, perché ancora non siamo una squadra matura per poter speculare sull'episodio o per leggere delle situazioni sempre in maniera corretta, quando riusciremo magari a capire il momento della gara, quando forzarla e quando forzarla un po' di meno, probabilmente potremmo fare anche qualcosa in più della partita di Genova, che comunque in questo momento è tanto.